Il barchino dei pescatori Vediamo che da l'altro si possa dire Non so pensare io a lui, sono un punto vicino Non so pensare io a lui Non so pensare io a lui Niente oggi Ho giocato troppo stamattina Non riesco più a fare un cazzo magari cambiare gioco eh sì sì cambier gioco sono un po saturo ma qui giocare survivor abbastanza tranquillo però sono un po saturo magari è dovuto che hai giocato troppo un gioco che è un'influenza celebrale e devi ridastarlo guarda ho davvero un sacco da fare ho la finita d'accordo forze nemiche capo vuoi darci una mossa guardami un po questo mi è questo mi è abbandonato tutti quei soldi sono una vera maledizione e non ho risposto grazie ci sembra che non c'è nessun peccino sui pezzi qua c'è qualcosa non c'è nessun peccato non c'è nessun peccato non uccidermi non uccidermi ho una famiglia senti non voglio problemi prima o poi quei ghost si renderanno conto di non avere la minima esperienza non c'è nessun peccato oh no da me ancora non c'è nessuno tutti tutti ma che cazzo è stato tutti i pallet non c'è nessun peccato non c'è nessuno non c'è nessun peccato sto giocando male bella giù ci ando a mani si vabbè sparate ai nemici ok vado assegno rimanete a riparo fara non c'è nessuno non c'è nessuno simon buonasera bella giu bella stima non abbassare non abbassare non lasciate vivo nessuno eccolo non fateli uscire vivi da qui non 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 non